Se Leibniz, anziché un filosofo, fosse stato un economista o avesse studiato le dinamiche del lavoro, non sarebbe ricorso alla celebre citazione natura non facit saltus. Sarebbe sufficiente, infatti, esaminare gli ultimi tre anni, da gennaio 2018 al dicembre 2020, per assistere, occhio nudo, alle oscillazioni dell'occupazione. Nel solo 2020 si parte dai quasi 23 milioni e 100 mila occupati del primo trimestre per arrivare ai 22 milioni e 700 mila del secondo, ai quasi 22 milioni e 9 del terzo e finire con i circa 23 milioni del quarto. Andamenti molto simili a quelli del bienio precedente se si pensa che a gennaio 2018 gli occupati erano 22 milioni e 873 mila e il picco si è raggiunto il secondo trimestre del 2019 con 23 milioni e 553 mila occupati. Dinamica identica sul fronte dei disoccupati con il numero più alto del triennio, 3 milioni, nel primo trimestre del 2018 e procedendo con altrettante numerose oscillazioni, il livello minimo di 1 milione e 900 mila nel secondo trimestre del 2020 per atterrare 2 milioni e 400 mila del dicembre dello stesso anno, stesso numero del terzo trimestre del 2018 e del terzo del 2019. Labor facit saltus.